ragazzi buongiorno appena alzati sono le 6 e 37 le bambine dormono ancora mia moglie è già alzata ci prepariamo per questo giorno stupendo da trascorrere insieme in famiglia stamattina andiamo a Ackland a vasto e niente ragazzi ci aggiorniamo dopo ok ciao a dopo stiamo partendo con un bezzo saluto a los paieres lo sai anche lo sai saluto lo sai ciao ciao non sei sì non sei sì non è ora ci troviamo a fare un po' di relazione saluta saluta siamo a Ackland ora scarichiamo la macchina e ci avviamo per andare al parco acquatico non salutate ragazzi a dopo oh giratevi guarda di ciao papà ciao noi siamo nell'acqua guarda l'acqua come gioca con me chiama l'acqua acqua 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 facciamo il pieno e poi carichiamogli al viaggio che vai io so cosa ti serve e sai vuoi mai cosa? mi chiedi quelli più ci sono il sole io voglio andare all'acqua del bastone nella piscina onde non ci si annoia mai andiamo tutti quanti all'acqua l'acqua del bastone spettacoli a trazione fatta a pasta per noi non c'è altro palco come l'acqua l'acqua del bastone io vado al caricato e tutto quello che vuoi andiamo tutti quanti all'acqua l'acqua del bastone se non ci fosse ancora lo inventerei non voglio il rumore voglio il cielo liquido per me e io voglio divertirmi e poi vuoi il mare viaggia no sole si ragazzi siamo arrivati qui a Acolam vi faccio vedere un attimo questo è Acolam ragazzi ora ci andiamo a mangiare un balfanino ecco ragazzi guardate è pieno pieno e niente ragazzi a dopo ora abbiamo fatto il torrente e a dentro ragazzi qui nel torrente che ci facciamo è pieno l'ultimo bagno ma forte ragazzi ci vediamo dopo a freddo ecco questa giornata l'abbiamo conclusa ancora noi abbiamo diciamo ora ci andiamo a lavare vestire stasera direzione termole ora siamo appena usciti da Acolam e poi come vi ripeto andiamo a casa ci laviamo stasera a direzione termole e vediamo dove va addolto andiamo a casa per lavarci e andare a terra stasera siamo solo il mio cognato il resto è deceduto guardate che compagnia che fanno guardate è bella il mio amore amore mia sorella va 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 ma che sta che ne ne faccio da uno si dorme ragazzi bella compagnia tutti i carichi aperta sera ragazzi ci troviamo dentro la giostra senza cappuccino ma che cappuccino ha messo sguardo rosaria dita ko che ci ha che cosa facciamo e allora dori Tito! Io non ho sorriso! Oddio! Guardi qui! Guardi qui! È un po' angiolo. Ah, il quadro! È un spartito! Ancora! Ehi! Che cosa? Hai in quattro! A una sdrazione sono in quattro! Hai in quattro, hai in quattro? Ha in quattro? Ah, non c'è il quattro vuoi! Ragazzi, vabbiamo qui a Termoli? Sì! tra il uso della bambina la polca ma non è un piano, ho più paura Grazie a tutti Grazie a tutti Ciao Ah è lei Un palino piccolo ho preso Che da molto che non mangia Che lavora solo Ok a dopo Ciao belli Buonanotte